Signor Sindaco, buonasera. Un'occasione per ricordarci del Comandante Lauro. È un grande uomo, un grande inventatore, un amante della sua testa, è stata fondamentale sia sui aspetti territoriali che l'aspetto calcistico, perché molti sostentini hanno lavorato sulle sue navi, sui suoi uffici. E poi è stato il simbolo del calcio Napoli per tanto tempo e poi la serie B del sorrento calcio. Sono ricordi affettuosi, è stato sindaco della nostra città, ha lasciato tanti ricordi e tante opere. È importante che ogni tanto di queste persone si parli, perché conoscere la storia degli umili del nostro territorio ci fa vedere il futuro con più ottimismo. Soprattutto per i giovani, per farlo conoscere anche ai giovani. Sì, sicuramente, perché molti giovani del mondo non lo ricordano. Noi ricordiamo quando lui organizzava dei Befani per i ragazzi sorrentini, tutti quando andavamo al cinema a raccogliere questo dono, poter essere anche più piccolo, ma più bello e più aspettato. Grazie.